La strada stretta, la pioggia battente, il bus che si avvicina al ciglio esce dalla careggiata asfaltata e finisce con le ruote sulla banchina di terra battuta che cede. Il bus si inclina pericolosamente ma fortunatamente non si capovolge nel fossato. Attimi di paura questa mattina in via Montegrappa-Moriago della Battaglia per un pullman della MOM finito fuoristrada. A bordo, oltre all'autista, due passeggeri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Probabilmente questa è un'auto che usa tre assi, quindi 14 metri, 14 metri e mezzo. L'autista probabilmente ha messo la ruota destra sul ciglio della strada, in quel momento pioveva e quindi non ha tenuto il ciglio, si è leggermente appoggiato sulla destra. Per fortuna non è successo niente, l'autista non ha avuto conseguenze e soprattutto non ha avuto conseguenze nell'autista, nei passaggeri. Certo che quella strada, basta mettere un attimo la ruota destra nel ciglio della strada e l'autobus non può rimanere incarezzata. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco arrivati da Conegliano e Treviso con l'autogru. Il mezzo è stato messo in sicurezza e poi recuperato. Nel frattempo un altro bus della MOM ha provveduto a caricare autista e passeggeri. Certo che dopo quanto accaduto a Mestre l'attenzione sulla sicurezza dei bus è massima anche alla MOM. Stiamo anche noi alzando il livello di sicurezza degli autobus, stiamo facendo un piano di rinnovo completo del parco mezzi. In tre anni dovremo portare il nostro parco mezzi a un'anzialità di otto anni, quindi con investimenti importanti. Nell'arco di nove anni faremo un investimento sui autobus di circa 80 milioni di euro. Questo proprio per mettere in sicurezza l'utenza e i nostri artisti che guidano l'autobus.